Questa è elettrostatica, questa è magnetostatica Ok, le condizioni dell'elettrostatica sono che la divergenza è uguale, 1 su epsilon 0, vabbè, queste unità che vengono dal sistema internazionale, mannaggia La divergenza è la carica, la densità di carica in un punto diviso epsilon 0 Cioè il flusso attraverso spiglisi chiusa è 1 su epsilon carica Seconda legge dell'elettrostatica, la circuitazione di indicamento è 0 E questo è equivalente a dire che il rotore è 0 o che il campo elettrostatico è generabile da un campo scalare Questa è una elettrostatica che dice che il flusso è sempre 0, ovvero la divergenza è sempre 0 E questo è equivalente a dire che B è generabile da un potenziale vettore in questo modo Notate che in tutti e due passaggi sto usando un teorema di matematica Cioè questo equivale a scrivere questo Questo equivale a scrivere questo Su due modi della stessa cosa, questo teorema non ve l'ho dimostrato Ma almeno ve l'abbiamo verificato Questo invece come no, l'abbiamo dimostrato in tutte le salse In una magnetostatica la circuitazione non è 0, dipende se c'è una corrente concatelata o no Cioè il rotore di B è U0 per la densità di corrente Allora io, ognuno ha due equazioni Ma possiamo combinarle assieme per avere un'unica equazione Per l'autostatica è un'unica equazione per la magnetostatica Un po' di economia, no? Allora, io prendo questo Dico che dentro il campo elestratico il gradiente è cambiato il segno di V E lo sbatto qui Quindi sto dicendo che la divergenza La divergenza del gradiente di V Cambiato il segno è uguale allo zero di isola epsilon Ovviamente il segno meno lo posso provare dall'altra parte Quindi ho la divergenza del gradiente E' uguale a meno uno zero di isola epsilon zero Cos'è la divergenza del gradiente? Usiamo le coordinate cartesiane Silenziala in fondo coordinate cartesiane Cos'è l'operatore gradiente? A rigore è chiamato NABLA Cos'è la NABLA di V? La NABLA di V In coordinate cartesiane Sapete bene scriverla così E' un vettore Che ha una parte nella direzione X Quanta parte è la derivata di V rispetto a X? Derivata parziale si intende Questo è il gradiente di V E io devo fare la divergenza Cos'è la divergenza? Questi sono esercizi e teoria Ma è un modo per manipolare Se lo dovete sapere fare Cos'è la divergenza di un vettore? La divergenza è un vettore Quindi la divergenza del gradiente E la derivata rispetto a X Della componente X Quindi Più la derivata rispetto a Y Della componente Y Quindi ho la derivata rispetto a Y Di quello che è già stato derivato rispetto a Y Quindi la derivata seconda di V Questa è la notazione no? Quindi vi raccomando Poi non lo farò più Anzi lo sto per cancellare Questa è la derivata rispetto a X Della derivata di V Rispetto a X Più la derivata rispetto a Y Della derivata di V Rispetto a Y Lo sto per cancellare Perché non lo farò mai più Questo E' un ricordo di cos'è la divergenza Giusto? No? Allora uso la notazione Che risparmia Gesso Quindi questa notazione Non la userò più Userò la notazione che stavo scrivendo Pronto? Dov'è? Via! Ok? Anzi comincio da qua Quindi la notazione Che si risparmia un po' In Gesso è questa E dovete saperla leggere Questa è la derivata seconda Rispetto a X Due volte Cioè la derivata seconda pura Rispetto a X Y e Z Ok? Questo signore qui Io lo scrivo Con la notazione degli operatori Differenziali La scrivo così Poi non lo farò mai più Io ho questo operatore Che agirà su V E' un operatore quello Ha un nome E' un operatore molto importante I coordinate cartesiane Questa cosa qua Si chiama l'operatore Laplaciano In onore del signor Laplace E il modo in cui si scrive è così Guardate com'è E' un operatore Nabla moltiplicato scalarmente Per se stesso Quindi è così Si scrive così Ok? Il Nabla quadro Ok? E' un Nabla con due Quindi il Nabla con due E' un Shorthand E' un simbolo Che ho inventato Che significa Nabla Potuto scalare Nabla E cos'è Nabla Potuto scalare Nabla? In coordinate cartesiane così Coordinate cartesiane Ottoconali Cartesiane rettangolari Quelli che conoscete già da tanti anni Deve essere chiaro Che l'operatore Gradiente Laplaciano Cambiano Se usate coordinate Cilindriche Polari Ma se usate le coordinate X,Y,Z Sono le espressioni Che vi ho dato Va bene? Quindi queste Sono le espressioni Laplaciano In coordinate X,Y,Z Quindi L'elettrostatica Può essere scritta In maniera molto elegante Cancello tutto qua E lo rimetto qua su No? Quindi l'elettrostatica Può essere scritta In maniera così Con una sola equazione Questa qua Il Laplaciano Devo Uguale a Meno Rho 0 Diviso Epsilon 0 Una equazione Questa è l'elettrostatica In termini del potenziale L'elettrostatica Si intende Shhh Questa è l'elettrostatica In termini del campo elettrico Ecco che il campo elettrico E' esprimibile come la gradiente Di V E questa è un'unica equazione Dove tutto è espresso In termini V E' una unica equazione E si chiama l'equazione Di Laplace Anzi no Si chiama l'equazione Di Poisson L'equazione di Laplace E' questa Questa è Poisson Che è Signor Poisson Vuol dire pesce E questa è l'equazione Del signor Laplace Quando è che vale L'equazione di Poisson E quando vale L'equazione di Laplace Quella è l'equazione Laplace Vale Nel vuoto Vedete Quando Rho E' uguale a 0 Quindi se questa è una carica Questa è una carica Questa è una carica Questa è un'altra carica Q2 Q1 Questa zona qua Dove non c'è nulla Questa zona qua Dove Rho E' uguale a 0 E' vuoto Le cariche Sono qui Sono qui Sono qui Questa zona Dove Rho E' 0 Vale l'equazione di Laplace In generale Dove qualsiasi punto Anche in questo punto Dove è incluso Della carica Perchè qua c'è una Rho E in questo punto Vale questo E in questo punto Dove Rho è 0 Vale questo Ok? L'equazione di Laplace E' l'equazione di Poisson L'operatore che appare nell'equazione di Laplace dell'equazione di Poisson Si chiama il Laplaceano D'accordo? Equazione di elettrostatica Un'equazione Bella Poi proveremo a reggerla Facciamo qualcosa di simile di qua Allora Di nuovo La divergenza di B è identicamente 0 Il campo selenoidale Allora Il campo selenoidale può essere scritto così Un campo selenoidale può essere scritto come il rotore di un campo vettoriale Quel campo vettoriale si chiama il potenziale vettore magnetico Questo campo qui si chiama il potenziale scalare elettrico elettrostatico in questo caso magnetostatico Prendete questo e inseritela qua Quindi Il rotore del rotore di A deve essere uguale a 0 j Questa è una equazione espressa combinando la 1 e la 2 Che diavolo è il rotore del rotore? Allora Si dimostra e lo dimostreremo adesso che il rotore del rotore di A è uguale a vediamo se non lo ricordo perché sono due termini che hanno un segno uno positivo e uno negativo e tengo a dimenticare che il positivo e che il negativo Mi azzardo da scrivere che è shhh Attenzione questo è un vettore è un vettore Il rotore è un vettore il rotore di un vettore è un vettore questo è un vettore D'accordo? Quindi quello che sto per scrivere è un vettore è un vettore Allora sarà il gradiente di uno scalare meno il Laplaciano questo è un teorema di analisi vettoriale e adesso ce lo dimostriamo ok? con molta pazienza e daremo un ripasso di tante cose sono cose che dovrebbe sapere fare Dove la faccio? sull'altra alla linea Attenzione questo è un vettore d'accordo? Quindi io voglio dimostrare almeno una delle componenti poi per come ottengo il risultato capirete da soli che la dimostrazione è tale quale per la componente y e la componente z quindi io voglio farlo della componente x quindi voglio prendere la componente x di questo dimostrare che questo sarà la componente x di questo cos'è questo? L'operatore Nabla quindi anzi per non per non pesantire preferisco scrivere sotto che intendo dimostrare questo la componente x di questo è uguale alla derivata rispetto agli x di questo meno la derivata della componente x di questo dovete pensare cosa è scritto qua questo è il Laplaciano del vettore queste sono tre equazioni io voglio dimostrare questo dimostrato questo per la componente x vedrete da soli come diventa per la componente x lo facciamo? si o no? ovvero non lavorare chi ha detto no? non lo facciamo perché se non la faccio adesso non lo farò più lo faremo all'orale quindi con molta pazienza solo che io odio questa lavagna quindi cancellerò qua va bene? intanto questa la rifacciamo in un bambino la lavagna sotto proprio non riesco a usarla mi crea sempre difficoltà quindi la prima cosa da fare la prima cosa da fare è scrivere questa bestia qua e individuare chi è la componente x quindi dobbiamo prima fare il rotore di A e poi il rotore del rotore no? quindi il rotore di A questo è il rotore questo è il rotore di nuovo dobbiamo aver chiaro cos'è fatelo prima che lo faccia io uso una notazione un po' più leggera di sera così mi risparmi un po' di tempo uso questa notazione qui ok? non so se l'ho mai usato nel passato per espranere un po' il gesto bene dobbiamo avere la componente x chi è? di nuovo per l'ennesima volta derivata rispetto a y di a z meno la derivata di z rispetto a y il vantaggio è usare questa notazione che è più leggibile no? si vedono meglio i pedici la stessa cosa no? questa è la componente x la componente y questo è quello che bisogna stare attenti quindi la derivata rispetto a z di a di x meno la derivata rispetto a x di a di z più la componente z stasera devo fare e scambio ci siamo? verificate rapidamente che ho fatto giusto siamo tutti d'accordo? ok adesso dobbiamo fare il rotore di questo con l'infinita pazienza derivata rispetto agli x d'accordo? rispetto agli y d'accordo? rispetto agli z d'accordo? adesso qua devo mettere questo quindi aiutatemi a non sbagliare perché se poi mi sbaglio dico pazienza non ho tempo e voglia di rifarlo e ci vediamo onorare quindi aiutatemi a non sbagliare adesso per esempio devo darvi un po' di spazio se no non ci sto dovesse cercare di battermi sul tempo sfidatevi è una gara chi finisce prima può dire che finiscono no pain no game cos'è qua? e la cosa è stupefacente voi ridete? io sono serissimo signorina quella che mi ha risposto così bene quella volta ce la fa a battermi? vediamo se è plausibile la componente x qua non deve avere perpendici x non ce l'ha y non deve avere perpendici y la z non deve avere perpendici z d'accordo? e devo semplicemente sperare di aver di aver trascritto bene questo è giusto? perchè se questo è sbagliato è chiaro che questo è sbagliato adesso io voglio discutere la componente x io voglio dimostrare questa cosa qua in arancione ok? quindi mi interessa la componente x di sta roba e qual è la componente x? la componente x è quello che io tengo facendo così quindi è questa parte qua che mi darà la componente x quindi la componente x del rotore del rotore è la derivata rispetto a y che si applica a questo con molta pazienza devo derivare rispetto a y quello che è già stato derivato rispetto a x ok? quindi ho la derivata seconda rispetto a y avendo già fatto rispetto a x di cosa? di y? di ay poi qua quindi ho meno la derivata seconda rispetto a y ah che bello! vedete? vedete che sta saltando fuori il pezzo che pertinente alla placciano? allora dove ero? qua quindi questo è a x d'accordo? spero di aver fatto giusto ah beh manca ancora altro pezzo no? perchè però l'ho fatto solo questo per fare questo adesso quindi a motorino quindi quindi più la derivata rispetto a z pura z z di ax a meno la derivata seconda di z avendo già la derivata rispetto a x di az ci siamo? ok e mi sto chiedendo se è uguale a questa roba qua meno questa roba qua quindi questo è il pezzo facile quindi mi sto chiedendo è uguale punto di domanda a prima scriviamo questo poi scriviamo questo scriviamo nell'ordine in cui è scritto questo è la derivata rispetto a x della divergenza di a quindi dobbiamo avere l'idea chiara adesso cos'è la divergenza di a la divergenza da dove la scrivo? la scrivo qua la divergenza di a è uguale a cosa? a derivata rispetto a x di a di x più derivata rispetto a y di a di y più derivata rispetto a z di a di z questa è la divergenza in coordinate cartesiane x,y,z e io devo fare di questo scalare perchè questo è uno scalare e devo fare la componente x del gradiente giusto? quindi devo fare la derivata x rispetto a x di questa roba qua quindi e la scrivo qui mi sto chiedendo è uguale a derivata seconda rispetto a x di a x più la derivata rispetto a x di questo derivata seconda rispetto a x avendo derivato prima rispetto a y di a y più la derivata rispetto a z x di questo quindi la derivata seconda di a z rispetto a x avendo derivato già rispetto a z se non sbaglio se non ho sbagliato ho scritto questo pezzo qui adesso devo sottrarre l'aplaciano della componente x di a e cos'è l'aplaciano? è qua devo avere un po' di spazio e questo è uguale meno la derivata seconda rispetto a x quadro di a x meno la derivata seconda rispetto a y quadro di a x meno la derivata seconda rispetto a z di a x cioè questo qui è quell'ultimo pezzo siete d'accordo? qui? eh? quindi tolgo le parentesi e spero di non aver fatto un errore allora questo vi pare che ci siamo no? oh no aiuto qua c'è la y ah ma questa è la derivata y x e quello x ma la stessa cosa? questo è uguale a questo check poi ho questo un attimo che mi sto perdendo eccolo qua questo c'è quindi prendiamo i colori ci siamo? ha funzionato? bene questo x rispetto a y due volte eccolo qua check z ah la c'è il segno più perchè? avete sbagliato il segno quando avete fatto la matrice è indicato di fare meno d z questo che hai sbagliato? quello il terzo è qua questo qua? per fortuna grazie merci beaucoup quindi l'altro colore questo dov'è? che sono proprio cieco eccolo qua check e questi qua sono uguali sempre per schwarz d'accordo? verificando fate la dimostrazione con la componente y e la componente z per praticare secondo me se la fate una volta con qualsiasi cosa ok ci siamo? ok? quindi no no ho sbagliato perché ripeto tendo a dimenticarmi chi è positivo e chi è negativo va bene? quindi dopo tutta questa fatica che in realtà faticano eh qual è la fatica? avere la pazienza di scrivere con calma è la fatica non c'è niente difficile di fare mettiamo i pezzi assieme no? quindi il rotore di B è uguale al rotore del rotore di A matematicamente il rotore del rotore è uguale al gradiente della divergenza di A meno il latore di A meno il latore di A ma Ampere mi dice che questa roba qui è uguale a mu zero J ok? quindi la mia equazione elettrostatica si riduce a questo quindi questa è l'equazione come 1 e 2 messi assieme facendo uso del teorema di analisi vettoriale allora riassunto questa è la magnetostatica in termini del potenziale vettore in termini del potenziale vettore A l'equazione dell'elettrostatica in termini del potenziale scalare v è questo c'è una certa assomiglianza mannaggia se non fosse per questo pezzo qui se non fosse per questo pezzo qui sarebbero identici ecco che la natura non è matrigna ma è benigna è uno dei bellissimi casi in cui la natura la struttura matematica dell'equazione dell'elettromagnetismo permettono di imporre se si vuole una condizione ausiliaria e la condizione ausiliaria si può imporre se si vuole la condizione ausiliaria che si può imporre se si vuole se si vuole si può sfruttare una specie di simmetria interna all'equazione di Maxwell e si può imporre si può scegliere di avere che la divergenza di A sia identicamente nulla e quindi tutto l'altro con questa scelta le equazioni dell'elettrostatica e della magnetostatica hanno esattamente lo stesso aspetto quindi di nuovo la morale del corso almeno come io sto cercando di raccontarlo e dovete sfruttare al massimo le similitudini certo siete molto avvertiti che ci sono differenze ma quello che imparate in una cosa forse può essere risiclata quindi l'equazione dell'elettrostatica è questa e la placciano di V uguale a meno Rho diviso F0 la magnetostatica con la condizione ausiliaria che è la divergenza di questo benedetto A questo strano A questo A che so che B può essere scritto come il rotore di una A beh io posso scegliere la A che mi genererà la mia B in maniera che la sua divergenza sia 0 e con questa scelta la magnetostatica è questa è bellissimo questo io lo trovo bello poi ci sarà sempre qualcuno di voi questo questa è un'equazione e queste sono tre equazioni adesso è chiaro che ho la placciano della componente x che è uguale a meno mu0 di jx ho la placciano di ay che è uguale a meno mu0 di jy ho la placciano della componente z che è uguale a meno mu0 della componente z di j ma questa è l'equazione di Poisson è la stessa equazione dove invece di avere v o a e invece di avere 1 su y0 ho mu0 c'è meno invece di avere la densità di carica o la densità di corrette quindi vedete che l'equazione di Poisson e tutto quello che impareremo dell'equazione di Poisson può essere riciclato nella magnetostatica a patto di fare debiti e associazioni che 1 su y0 diventa mu0 e che la v che è uno scalare quale scalare? il potenziale che genera e diventa un vettore qual è il vettore? il vettore che genera la v ci sono delle differenze ma la struttura matematica è la stessa quindi se sapete risolvere questo e lo impareremo sapete risolvere questo e quindi questo e questo è veramente un bellissimo risultato che la natura vi dia questa opportunità e perchè la natura non è matrigna è proprio una cosa interessante adesso che ore sono? qualche commento perchè adesso dobbiamo cercare di avere un linguaggio comune ci sono diversi operatori del corso c'è il flusso nel contesto del linguaggio differenziale abbiamo la divergenza no? la divergenza di un campo vettoriale magari un campo vettoriale W così non c'è il rischio di confonderlo con la V abbiamo il rotore se abbiamo un campo scalare o anche un campo vettoriale ha senso chiedersi cos'è il laplaciano per esempio il laplaciano di V o il laplaciano di A prese una componente alla volta c'è un altro operatore che è questo qui cos'abbiamo? è il gradiente questo è il porcospino questo è la circuitazione questo in fondo è una misura del flusso in un punto no? il flusso diviso il volume questo è una circuitazione diviso un'area questo cos'è? questo cos'è? il gradiente cos'è il gradiente? dovete ricordare che se avete un problema di matematica dove avete una funzione x,y,z una funzione scalare che dipende dal punto cos'è? qual'è la variazione? qual'è la variazione di V in due punti? uno è un punto x più delta x y più delta y z più delta y z z e il punto x,y,z la stima lineare della variazione del valore di V da un punto a un altro che gli è vicino che gli è vicino una stima lineare l'abbiamo fatto è uguale al gradiente di V prodotto scalare delta R cioè questo è se io prendo due punti vicini x,y,z e un altro punto dove vario x,y,z per delta x,y,z di quanto è cambiata la funzione V una stima di quanto è cambiato è data da la derivata di V rispetto a x nel punto per delta x più la derivata di V rispetto a y nel punto di origine moltiplicato a delta y la derivata di V rispetto a z sempre nel punto iniziale moltiplicato per delta z quella è una stima come si scrive questo? questo è un teorema che dovete conoscere l'ho fatto al precorso questo si scrive così come il prodotto scalare del gradiente per il vettore spostamento per andare dal punto x,y,z a un altro punto che è x più delta x,y più delta y,z più delta z quindi cosa mi dice questo? che il gradiente è un vettore e guardate io potrei avere un cambiamento zero se il mio spostamento è a 90 gradi rispetto a questo vettore quindi il gradiente che cazzo è? devo dire la parola cos'è? cosa misura? shhh cosa misura il gradiente? qualcuno lo sa? l'ho già detto credo è una specie di generalizzazione della pendenza quindi voi dovete pensare a curve di livello perchè questa è una funzione scalare quindi la metafora a cui pensare è quella di una mappa di una carta topografica con le curve di livello i punti che hanno la stessa quota sul livello del mare se questi sono i punti che hanno tutti lo stesso livello dal mare la stessa altezza da livello del mare questi sono altri punti che hanno la stessa quota sul vivo del mare questi sono altri punti che hanno una quota diversa questi sono punti che hanno una quota diversa questi sono punti che hanno una quota diversa e questo sta andando che so da 10m sui livello del mare 20m 30m 40m 50 eh? qua nella fuoco o spazio la quota sta cambiando molto è molto ripido lì qui invece per andare da 10 metri sui livelli del mare a 50 dovete camminare tanto poi giù qua nel giro di poco spazio andate a 10 e 50 quindi perchè le linee sono vicine capite che c'è un rapido cambiamento della quota prima cosa seconda cosa qual è il gradiente in questo punto? in quel punto il gradiente cos'è? è un vettore che è a 90 gradi rispetto alla linea di livello perchè se io mi muovo da questo punto a questo punto non ho cambiato la mia quota per cambiare di quota cosa devo fare? devo camminare in questa direzione? si ho cambiato la mia quota ma qual è la direzione nella quale se io mi sposto la mia quota cambierà di più? e quando ho mi sposto così se io mi sposto obliquamente mi alzo perchè mi alzo? perchè questa è una curva da 10 e questa è una curva da 20 se io mi sposto lungo la curva non mi alzo rimango a 10 se io mi sposto in questa direzione mi sto alzando ma meno che se io mi sposto così se io mi sposto così la mia quota va giù se io mi sposto così la mia quota sale e sale più di quello che sarebbe salito se andavamo in questa direzione quindi il gradiente cos'è? è in un punto voi dovete sondare il treno con il vostro piede siete nella nebbia non vedete la cima del monte vedete solo vicino a voi dovete sondare con i piedi se voi camminate in questa direzione e rimanete alla stessa livello ok andate di qua e rimanete alla stessa livello andate di qua e salite un po' andate di qua e scendete un po' quella è la direzione del gradiente la direzione del gradiente in un punto è a 90 gradi rispetto alla curva di livello e punta verso salire punta verso salire quindi questa scrittura qua che è il campo elettrostatico uguale a meno il gradiente di V cosa vi dice? che invece di parlare di curva di livello voi avete un campo scalare che si misura nel sistema internazionale in volt questa è la curva di tutti i punti dello spazio che hanno che sono 10 volt questa è la curva di tutti i punti che hanno 20 volt questa è la curva di tutti i punti che hanno 30 volt questa è la curva di tutti i punti che hanno 40 volt eccetera quindi in questa zona qua andare in questa direzione da qua a qua i volt cambiano molto in poco spazio qual'è il campo elettrico in questo punto? il campo elettrico dovete cercare il gradiente e poi cambiare di segno in questo punto il gradiente e quindi il campo elettrico sono a 90 gradi rispetto alla linea il gradiente è di qua a salire e il campo elettrico è a scendere com'è il campo elettrico qui? in questo punto il gradiente è di qua il campo elettrico è di là com'è il campo elettrico qui? e il gradiente è di là e il campo elettrico è di qua a scendere il campo elettrico in un punto cos'è? è il gradiente di V cambiato di segno è esattamente la stessa metafora delle curve di livello di un escursionista invece di avere metri sul livello del mare avete V e quanto è la pendenza? quant'è il gradiente? se è grande cioè se in poco spazio il campo il potenziale elettro statico cambia molto il campo elettrico è grande se in quella zona spostandovi il potenziale elettro statico cambia di poco il campo elettrico è piccolo avete una montagna ripida o una montagna non ripida? quindi il campo elettrico è una misura se volete della pendenza della ripidità di questa funzione che si chiama V che non è la quota sul livello del mare ma è una funzione che si chiama potenziale elettro statico quindi dovete immaginare lo spazio riempito di colline e di valli che sono non di metri sul livello del mare ma valori di V quindi quando avete qua sta andando da 10V a 40V in poco spazio quindi il campo elettrico qua è in questa direzione ed è molto intenso rispetto a un campo elettrico qui perché per cambiare di 10V qua da questo punto a questo punto devo camminare molto la pendenza è piccola invece qua cambio da 10V a 40V di 30V in poco spazio questo lo diremo giovedì ma questo è il linguaggio anzi giovedì probabilmente verrò con il proiettore non perché voglio farvi lezioni al proiettore ma perché c'è un power point in cui è infilato un'animazione e in teoria voi l'avete già trovato perché è sul sito e l'animazione ve lo racconto ve lo anticipo così voi curiosi, curiosi andrete subito a casa cercando i non curiosi invece aspetteranno che giovedì venga col proiettore allora cosa consiste? la schermata è così quando lo mettete in modalità visualizzazione il power point avete una tavola rasa e qua in alto a sinistra avete una scatola con delle sfere rosse e delle sfere blu avete delle sfere rosse e delle sfere blu le sfere rosse sono cariche positive e le sfere blu sono cariche negative ok? poi avete la possibilità anche di spostare una specie di sonda e la sonda magari la disegno qua con un asterisco perchè in realtà nel programma è arancione, giallo, d'oro silenzio allora voi cosa fate? col mouse trascinate avete un serbatoio avete un sacco di palline rosse e palline blu ne mettete una poi col cursore prendete la sonda e la mettete in un posto e apparirà una freccia rossa e la freccia rossa rappresenta la forza di Loretz quindi la sonda è positiva silenzio la sonda è carica positiva quindi se mettete una carica rossa e la sonda la mettete qua vedete apparire una grande freccia rossa che rappresenta la forza che la sonda sentirebbe in presenza del campo elettrico creato da questo se poi col mouse spostate la freccia e la sonda avvicinate, allontanate vedete la freccia rossa che diventa più o meno grande e cambierà orientazione in base a dove è piazzata la sonda la parte didattica di questa cosa è che esiste anche silenzio silenzio il fondo esiste anche un altro cursore mobile che ha l'aspetto di un mirino è una specie di rettangolo con un mirino e voi potete spostare questa intera scatola quindi spostando il mirino e avete man mano che lo spostate a fare una scritta v uguale a top quindi lui vi dice in quel punto dove il mirino è vi dice quali sono i volts qual'è il valore di v che vi da il campo elettrico quindi quando il mirino è qua vedete un certo valore poi c'è un pulsante che se la pigiate lui traccia la curva di tutti i punti che hanno lo stesso valore di v quindi vi disegna la curva di livello chiamiamola così non sono metri sul livello del mare ma sono tutti i punti che hanno lo stesso punto quindi voi spostando questo e cliccando se la carica è sola troverete delle sfere tutti i punti sulla sfera hanno lo stesso valore di v e apparirà una volta e questi magari sono che so 100V e questi sono che so 25V poi voi ogni volta che aggiungete una nuova carica si aggiorna e voi costruite distribuzioni per esempio una carica rossa una carica rossa una carica rossa magari ne metto di più e avete la vostra pazienza e poi mettete la sonda qua in mezzo oppure questa qua con il mirino e tracciate le curve di livello e vedrete il campo elettrico e il campo di centro statico di una distribuzione planare eccetera eccetera la faremo assieme giovedì per pochi minuti ma questo acquisterà significato per voi se la fate voi non ha senso che io mi metta qua a fare la lavagna vi faccio solo vedere rapidamente come funziona il programma ma voi siete intelligentissimi vi apro il file e voi giocherete e ognuno giocando acquisterà esperienza chi non gioca l'esperienza non l'avrà chi invece spende un'ora o mezz'ora del suo tempo a giocare questo acquisterà un sacco di sensibilità ok? ci vediamo giovedì